Casa Micola, Don Luigi Mero La inaugura l'anno scolastico al Manzoni Il prete anti Camorra ha visitato le scuole della cittadina termale Agli studenti delle medie ha detto Per estirpare il cancro della Camorra Bisogna iniziare dalle scuole Vito Iacono, la vicenda di Cava Gestita malissimo dal Comune Per il consigliere comunale di opposizione a Forio La chiusura della spiaggia è frutto di una ordinanza del 2014 e da allora nulla è stato fatto per risanare il costone L'olimpionico Gianni Sasso Ambasciatore di Forio nel mondo La cerimonia di premiazione durante il consiglio comunale Per il consigliere Giuseppe Di Maio Sasso ha dimostrato sul campo il proprio valore Promozione La nuova Ischia a punteggio pieno Battuta dalla Puteolana e terza vittoria consecutiva in campionato La sintesi di Procida Virtus Volla Le interviste agli allenatori E dopo il telegiornale la trasmissione sportiva A bordo campo Benvenuti al consueto appuntamento Con informazione di Tele Ischia Si svolgeranno domani pomeriggio Alle 16.30 presso la chiesa di Sant'Antonio ad Ischia I funerali di Salvatore dell'Izia Il 49enne Ischitano Vittima di un incidente domestico L'uomo era rimasto ferito alla testa A seguito di una caduta dal tetto Della propria abitazione In via dell'amicizia I medici del Rizzoli Vista la gravità della ferita Decisero il trasferimento All'ospedale La Schiana di Pozzuoli Dove è stato sottoposto Ad un delicato intervento chirurgico Poi dopo diversi giorni di coma farmacologico La dichiarazione di morte cerebrale Da parte dei medici Del reparto rianimazione Dell'ospedale di Pozzuoli Da qui la decisione della famiglia Di donare gli organi E domani pomeriggio a Sant'Antonio L'ultimo saluto a Salvatore Alla famiglia le condoglianze di Teleischia È stato ritrovato ieri Nelle acque di Procida Dopo 50 ore di ricerca Il cadavere del pescatore di Anacapri Ramiro Mottola Che venerdì all'alba Aveva lasciato la sua abitazione Per recarsi a pescare Nella zona del Fortino Di Mesola ad Anacapri A ritrovare i resti Dell'anziano caprese È stato l'equipaggio Della motovedetta 807 Della capitaneria di Porto di Ischia Impegnata ad ispezionare Il tratto di mare Tra Ischia e Procida Il cadavere è stato poi Trasportato a Napoli Presso l'Istituto di Medicina Legale Per essere sottoposto Da autopsia Su disposizione del magistrato A Procida Ora è lunga e difficile Quelle che hanno visto Impegnati i volontari Della protezione civile A far fronte a più di una emergenza Verificatasi sul territorio Nella notte Dice il responsabile Antonio Meglio Siamo stati chiamati Per un palo Della pubblica illuminazione Nel viottolo Prima di via Rinaldi Che si fiammava Facendo temere L'incendio delle piante attigue Per cui siamo dovuti intervenire Poi la segnalazione Dell'incendio All'interno dell'ufficio postale Il principio di incendio Riconducibile a causa Di natura elettrica Si è sviluppato Dalla postazione numero 2 Sono andati distrutti Il monitor Il videoterminale E le apparecchiature collegate La fuligine ha annerito Tutti gli ambienti I focolai ancora presenti Venivano sedati Con l'utilizzo Di un estintore a CO2 Messi in sicurezza i locali Verificata l'assenza di pericolo Di nuovi inneschi L'ufficio è stato richiuso E la squadra è rientrata Sul posto erano presenti Il direttore Dell'ufficio postale E le locali Forze dell'ordine E parliamo di referendum Costituzionale La data del voto Per il referendum Costituzionale È stata fissata Per domenica 4 dicembre La decisione è stata comunicata Al termine della riunione Del Consiglio dei Ministri Del pomeriggio di oggi Si voterà Dalle ore 7 Alle 23 Don Luigi Merola Prete anticamorra Stamani a casa Micciola Per l'inaugurazione Dell'anno scolastico Al plesso Manzoni Per estirpare il cancro Della camorra Bisogna iniziare dalle scuole Ha detto Don Luigi Prima di prendere la parola Nell'aula magna Dell'Istituto Ibsen Dinanzi a centinaia Di studenti delle medie Sentiamo Don Luigi Merola In giro In visita Alle scuole di casa Micciola Don Luigi Quanto è importante Parlare di legalità Alle giovani generazioni? È fondamentale Perché la scuola Non è solo Maestra di nozioni Ma oggi diventa Anche maestra di vita I ragazzi Devono conoscere Un cancro Che a Napoli Si chiama camorra Che a pochi Possiamo dire Metri Non chilometri Da Napoli Ischia E che bisogna Savoguardare Quello che il creato Ci ha dato L'ambiente Come? Attraverso la conoscenza Dunque l'anno scolastico Si apre Con quello che diceva I ragazzi Studiate 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 Perché il male Nostro si chiama Ignoranza Come ha trovato La nostra istituzione scolastica? I ragazzi Attenti Un corpo docente Fattivo Dei genitori Che però Secondo me Devono collaborare Di più Perché l'agenzia educativa Non è solo la scuola Ma è anche La famiglia Poi una chiesa Attenta Vedo dei sacerdoti Molto attivi Il vescovo E dunque Possiamo fare rete Si combatte il cancro Con una buona medicina La medicina E la comunione Lo stare insieme Possiamo vincere Il Presidente D'Ambrosio Ha convocato Il Consiglio Comunale Di Casamicciola Per domani Martedì alle 14 In prima convocazione E per la stessa ora Di giovedì In seconda convocazione All'ordine del giorno Una modifica Al regolamento Dell'imposta di soggiorno E tariffe Per l'anno 2017 Il piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale Rimodulato L'adesione All'ente d'ambito Per l'esercizio In forma associata Delle funzioni In materia di gestione Del ciclo dei rifiuti Con la presa d'atto Dello Statuto E ci spostiamo a Forio Per la chiusura Di Cava dell'Isola Il responsabile Dell'amministrazione comunale Lo sostiene Il Consigliere Del Volo Vito Iacono La chiusura deriva Da un'ordinanza Del 2014 E da allora Nulla è stato fatto Per mettere in sicurezza Il costone Della spiaggia Sentiamo Vito Iacono Vito Iacono Ci sono due vicende Particolarmente Importanti In questo momento La chiusura Di Cava dell'Isola E lo sgombero Di Citara La posizione Dell'opposizione La posizione È raccapricciante Perché da un lato Su Cava dell'Isola È evidente La responsabilità Dell'amministrazione La chiusura deriva Da un'ordinanza Del 2014 Mi sembra possibile Che dal 2014 Ad oggi L'amministrazione Non ha ritenuto Di intraprendere Iniziative Tese a mettere in sicurezza E garantire La fruibilità In sicurezza Dell'area Poi Sta cosa che Per un'estate intera Nessuno si è ricordato Che quell'area Non solo era da chiudere Perché c'era l'ordinanza Ma perché era pericolosa Bisognava bonificarla Dai ferri arrugginiti Che intanto Derivavano Da una vecchia ordinanza Che poi era stata superata Dove il privato Aveva provveduto Alla messa in sicurezza Non c'è Governanza Del territorio Delle criticità Tutto questo Passa sulla testa Nella vita Delle persone Perché da giù Ci sono dei ristoranti Che vivono Di questo sostanzialmente Che si trovano In piena stagione Perché spero Che la stagione estiva Qui duri almeno Fino a fine ottobre Con questa spada Di Damocle Di una chiusura Poi a parte le vicende Che prima è stata chiusa Poi è stata riaperta Fisicamente Poi sembrerebbe Che nonostante L'ordinanza di chiusura Lì l'amministrazione Ha affidato soldi Per la pulizia Di una spiaggia Che invece risultava chiusa Avrebbe dato dei soldi Per la custodia Per evitare I falò A ferragosto Quando c'era l'ordinanza Che di fatto Era già Non fruibile Adesso l'auspicio E che ieri In conferenze Dei capi gruppo L'abbiamo affrontato Il tema E che finalmente Si metta mano Ad un intervento Decisivo E concreto Che garantisca Nel futuro La piena fruibilità Della spiaggia L'atleta olimpionico Gianni Sasso Nominato ambasciatore Di Forio Nel mondo Nella cerimonia Di premiazione Avvenuta nel corso Del consiglio comunale L'amministrazione Ha donato Una targa In segno Di riconoscenza Per aver rappresentato Tutta la collettività Foriana Alle paralimpiadi Di Rio 2016 Vediamo il servizio Di Gennaro Savio L'abbraccio Di Domenico Savio Per lui Zio Mimmo Ha rappresentato Certamente Uno dei momenti Più toccanti Della cerimonia Di premiazione Avvenuta nel corso Del consiglio Comunale Di Forio Dell'atleta olimpionico Gianni Sasso A cui l'amministrazione Comunale Ha donato Una targa In segno Di riconoscenza Per aver rappresentato Tutta la collettività Foriana Alle paralimpiadi Di Rio 2016 E sono stati Naturalmente Tutti i concordi I consiglieri Comunale A riconoscere A Gianni Non solo Il merito Di non essersi Mai arreso Dopo il tragico Incidente Che all'età Di 16 anni Lo ha privato Per sempre Della gamba sinistra Ma di essere Diventato Uno degli atleti Più forti Al mondo In diverse Discipline sportive Come il calcio Il ciclismo Il nuoto La corsa E il paratriatron Vito Iacono Che all'epoca Dell'incidente Condivideva con Gianni La passione Per il calcio Ha detto Che per Forio È un onore Avere come concittadino Il primo atleta Olimpionico Della storia Della storia Dell'isola Dischia Nicola Nicolella Ha sottolineato Che la forza Di Gianni È rappresentata Dalla determinazione Con cui affronta E raggiunge Gli obiettivi Che si prefigge Domenico Savio Che si è detto Onorato Di essere Lo zio Del campione Olimpionico Oltre a chiedere Il miglioramento Delle strutture sportive Di Forio Ha sottolineato Come Gianni Assieme ai suoi genitori Abbia trovato Il coraggio E la forza Di reagire Al grave incidente A corso Gli assedici anni Al termine Degli interventi Il sindaco Francesco Del Deo Ha consegnato A Gianni Sasso La targa Di ambasciatore Di Forio Nel mondo Al campione Gianni Sasso Nello sportive Nella vita Ambasciatore Di Forio Nel mondo Che per consigliere Di alzare Gianni Sasso È uno sportivo Che ha dimostrato Sul campo Il proprio valore E il commento Del consigliere comunale Di Forio Giuseppe Di Maio All'indomani Della consegna Dell'encomio All'atleta Olimpionico Sentiamo Di Maio Gianni Sasso L'eroe del momento Anche Forio Ha voluto dare Un tributo importante Sì Al consiglio comunale Di ieri È stato un momento Di grande emozione Non solo Per l'intero Consiglio comunale Ma per me Personalmente Perché Gianni Oltre a essere Uno sportivo Che ha dimostrato Sul campo Il proprio valore È un amico Mi legano a lui Dei ricordi Sin da bambino E poi Subito dopo l'evento C'è stata questa continuità A livello sportivo Sia come organizzatore Che come Parte attiva Proprio Calciatore Atleta Che mi ha Col quale ho condiviso Tanti momenti Quindi Gianni Un esempio Non solo un esempio Da seguire Non solo È importante Dargli omaggio Ma come io ho detto In consiglio comunale Sarà importante Se lui vorrà E penso che mi ha dato Già una sua prima adesione Coinvolgerlo In quello che saranno Che saranno le attività sportive Del nostro comune Uomo immagine Uomo importante Per lo sport Sì Uomo importante Anche per lo spessore Umano Oltre che sportivo Che lui Ha dimostrato Ha saputo dimostrare In questo Perito Quindi cercheremo In tutti i modi Di coinvolgerlo Nel nostro Balinsesto sportivo La candidatura di Fuoco a mare Di Gianfranco Rosi Agli Oscar per l'Italia È una bellissima notizia L'ho detto Giancarlo Carriero Presidente Dell'Accademia Internazionale Arte Ischia Commentando la candidatura Del film All'Oscar Per il miglior film In lingua non inglese Secondo Carriero L'abbraccio Della nostra presidentessa Carrie Kennedy A Rosi In occasione Del Social Award Ricevuto All'Ischia Global 2016 Lo scorso luglio Ci auguriamo Sia un viatico Bene augurante Ischia Global Con scelte di qualità Ed impegno Conferma ancora una volta La sua centralità Nel sistema del cinema Internazionale Aggiunge Carriero Ricordando L'emozionante proiezione Del film Dedicato All'Ampedus E siamo Alla pagina sportiva Eccellenza Procida Virtus Volla 3 a 1 Il Procida torna Alla vittoria Riscattando La sconfitta Immeditata Contro la Fragolese Dando seguito Al primo successo interno Nel derby Contro il Barano Spinetti è ancora fortunato Per la squadra di Cibelli Che infligge un netto 3 a 1 Alla Virtus Volla Al termine di una grande prestazione I marcatori Muro, Fragiello E Bacioterracino Per i padroni di casa Per gli ospiti Va in rete Biancolino Ma vediamoci la sintesi Buon pomeriggio amici Telespettatori E benvenuti Al Mario Spinetti di Procida Per la terza giornata Del campionato di eccellenza Isola di Procida Contro Virtus Volla Procida con Cibelli In panchina Quest'anno Il solito mucchio Un'area di rigore Il cross di Agata Micallo anticipato Proprio al momento Della battuta Il tiro di Spilabotte Pala che sorvola di poco La traversa Prima occasione Dalla rete per il Procida Davanti per Del Prete Il tiro poi di Agata E palla che si perde Di poco alto Sopra la traversa Verticalizzazione A cercare Fragiello La mette giù Fragiello Con il petto Anche abbastanza Acevolmente Il tiro di destro Fernandez Con qualche rischio La tiene lì E poi libera La difesa del Volla Intenzionato addirittura A calciare E proprio così Ci prova Fernandez Blocca due tempi Prova a fare tutto da solo Poi serve Muro Il cross di sinistro Al centro Micalo Lascia spilare E c'è il gol E c'è il gol Di Fabrizio Muro Procida uno Il gol di Fabrizio Muro Con dedica speciale A Papà Luigi Cross di Alterio Con un po' di testa Di Fragiello Dodò ora può andare In velocità Su di lui Il numero cinque Di Franco Il tiro poi di Dodò Che si vede al lato Fiorillo Dodò Per Spilabotte Agata Palla per Fragiello In area di rigore Fragiello Grande occasione E raddoppia E raddoppia Cennaro Fragiello Procida due Virtus Volla Zero E Biancorossi Che ora Mettono Una serie Poterega Su questa vittoria Stagliola Non aspetta neanche La fine del primo tempo La Virtus Volla C'è Di Marzo Per Biancolino Prova la girata A Biancolino Blocca Lamarra Con il Procida Di Mister Cibelli In vantaggio Al termine dei primi 45 minuti Sulla Virtus Volla Per due a zero Tonico Stagliola Limite dell'area Può calciare Col sinistro Lamarra Respinge il tiro Del calciatore procidano Prova a superare Di Franco Dodò Irresistibile Sulla destra Fa tutto da solo Dodò In area di rigore Crosso basso Al centro Fragiello L'alivazione sul fondo Grande occasione Per il Procida qui Non ci arriva Non ci arriva Neanche Spilabotte Muro Eccolo Spilabotte Per Fragiello Prova il sinistro Al bolo E la pala Fiora all'incrocio Liguoro Il cross al centro Per Emma Il colpo di testa Di poco alto Sopra la traversa Fragiello Grande combinazione Baccio del racino Il destro Traversa Clamorosa Espulso mister Tarantino Allontanato dalla panchina L'allenatore Della Virtus Volla Formazione napoletana Severino Incursione Palla al piede Con sinistro Il tiro Che sfiora l'incrocio Tony Costagliola Il cross morbido Al centro Biancolino Di testa La riapre la Virtus Volla Con Biancolino Parte Roghi La pala supera la barriera Fernandez In calcio d'angolo Dare fastidio all'esterno Che ora crossa Comunque al centro Di testa del prete Il tiro provato Dal limite Da Fiorillo La pala sfiora il palo C'è stata la Però La direzione providenziale Di Lamarra Portiere del Volla Libera La difesa bianco-rossa C'è la porta è vuota E' il tiro Di De Giorgi Dodò Corre Dodò Lui contro Nessuno La porta è vuota C'è Bacio Terracino Al centro Dodò lo serve Bacio Terracino 3-1 Procida Batte Virtus Volla 3-1 Grazie a rete Di Muro Fragiello E Bacio Terracino Intervallate Dal gol Di Biancolino Dopo la bella vittoria Del Procida Sulla Virtus Volla Soddisfatto Mister Cibelli Della prestazione Dei suoi giocatori Lo sentiremo tra poco Al microfono Dell'amico Mario Lubrano Lavadera Ascoltiamo Cibelli Mister Cibelli Del Procida 3-1 Contro la Virtus Volla Per riscattare La sconfitta Contro la Fragolesi Che aveva lasciato Parecchio rammarico Rammarico Perché chiaramente Quando fai la prestazione Però non raccogli niente C'è il rammarico Però anche oggi Io ho visto una squadra Che praticamente Ha fatto Una buonissima partita Sotto tutti i punti di vista Di concentrazione Di attenzione Di applicazione Di abnegazione Ed era questo Che ho chiesto alla squadra Perché sapevamo L'insidio E soprattutto Che paradossalmente Troviamo Sul terreno di campo Amico I ragazzi Sono stati sempre Concentrati E sul pezzo Hanno rispecchiato E hanno fatto Tutto quello Che avevamo provato In settimana Stando applicati Stando corti Come squadra Con la giusta cattiveria E' chiaro che poi Sul 2-0 Abbiamo allentato Un po' la morsa E nel secondo tempo Loro sono un po' Usciti Alla distanza Ma soprattutto Con queste Palle lunghe Nell'aria Creando confusione Voglio dire Anche il secondo tempo Abbiamo sciolinato Delle azioni importanti Soprattutto quelle In occasione Della traversa Insomma è stata Un'azione Che non facilmente Si vede in queste categorie Se appunto Vogliamo trovare Un po' il perone L'uovo In questa prestazione Del Procida E' proprio Quei dieci minuti Finali Dove Procida Era in netto Controllo Della gara E ha permesso A vola Di riaprirla E se non ci fosse stato Magari Quell'intervento Di Lamarra Alla fine Sarebbe stato Comunque Un altro tipo Di partito E' chiaro Noi sappiamo Che il calcio Questo Ti punisce Su una nostra Disattenzione Su una palla inattiva 2-1 E quindi praticamente Metti tutto di nuovo Diciamo così A rischio Le difficoltà aumentano Ti prende un po' l'ansia La paura Anche la giocata più semplice Diventa difficile Poi fortunatamente Ci siamo di nuovo Riorganizzati Siamo partiti in controviete Abbiamo chiuso la partita Ma voglio dire Dal punto di vista del risultato Non c'è alcun dubbio Che il Procida ha meritato ampiamente Mister Notte positive Nuovamente dall'attacco Che aveva un po' Deluso da Frago Oggi ha dato grandi risposte Soprattutto Dodò Fragello Ancora in gol Il bacio di Racino Che aveva bisogno Di sbloccarsi L'ha fatto Ma diciamo Quello che ho chiesto I ragazzi Durante la settimana Ci abbiamo lavorato tanto Di essere un po' più cattivi Più cinici Sottoporta Non è semplice Perché noi vorremmo sempre Che a ogni minima occasione Si facesse gol Non è sempre facile Però oggi voglio dire Sono contento Di tutti e quattro I miei attaccanti Anche di quelli Che sono entrati dopo Molto contento Della vittoria Anche il presidente Luigi Muro Abbiamo giocato molto bene Il risultato non è mai stato In discussione Sono contento Sentiamo il presidente Presidente Luigi Muro Torna il sorriso Dopo la sconfitta Che aveva lasciato parecchio Amare in bocca Di domenica scorsa Contro la Fragolesi Sì la sconfitta di domenica Era meritata Soprattutto per come era maturata Al di là che la Fragolesi È una bella squadra Oggi abbiamo trovato Un vola ben organizzato Noi abbiamo giocato molto bene Per lunghi tratti della partita Poi una disattenzione Ci ha fatto prendere il 2-1 Abbiamo un po' sofferto Ma il risultato Non è stato mai in discussione Quindi Questa è una bella squadra Sul nostro campo Sappiamo che Soffriamo Perché le squadre Giocano coperte Il campo è un po' piccolo Però Sono soddisfatto E credo che Finalmente Stiamo incominciando A andare Secondo le nostre possibilità Presidente Soddisfatto Da Presidente Ma soddisfatto anche da Papà Visto che Il primo gol L'ha segnato Fabrizio Sì sì Vabbè Quello è il classico gol Che come si dice Inganna i portieri Sono contento Perché ha giocato Comunque con il cuore E con la grinta Come tutti Ho visto Agata con I crampi Fragillo con i crampi Quindi sono dire Che hanno messo Tutto quello Che avevano E questo noi cerchiamo Che la categoria E l'attaccamento Alla maglia Questo noi cerchiamo Mister Cibelli Come al solito Ha sempre Fatto fare Se squadre Un buon calcio Quest'anno Anche con giocatori di livello Gli sta Abituando a sacrificarsi A giocare Per la squadra Esprimendo anche un buon calcio Soprattutto in fase offensiva Sì Cibelli È sempre stato Molto stimato Da tutti In particolare da me Che lo proposi Come allenatore Quando eravamo Mi pare In prima categoria Quindi sono Molto contento Ovviamente Si gioca una carta difficile Anche lui Perché come sappiamo L'allenatore Viene osannato Quando vince E viene criticato Quando perde Quindi All'appoggio Della società Che noi siamo Da sempre Della teoria Che gli allenatori Devono lavorare Con serenità E quindi Questa oggi Siamo tutti quanti soddisfatti Campionato di promozione La nuova Ischia Conquista la terza Vittoria consecutiva In campionato Almazzella Di fondo Bosso Battuta La puteolana Per 3 a 1 Reti realizzate Da Mele Per gli ospiti E Cuomo Paradiso E da Arcobelli Per i padroni Di casa Vediamo la sintesi Partiti È iniziata Nuova Ischia Puteolana Praticamente di Di massa Attenzione Alla nuova Ischia Mendil Vince il primo contrasto Ancora Mendil In area Insiste Mendil Scarico fuori per Paradiso Il tiro di Paradiso Alto È la prima azione Della nuova Ischia Occhio a questa ripartenza Insiste Capolupo Nuova Ischia Un po' scoperta Deve uscire Chiariello Pallone dentro Attenzione Al gol Della puteolana Ha segnato Mele No tempo Nuova Ischia a 0 Puteolana a 1 Camorani batte corto Occhio a Matarese Può andare al cross Pallone dentro Il colpo di testa di Paradiso Grande parata di Casolare Non è finita C'è il tiro di Cuomo Prova a perdere Qualche secondo prezioso Si gira bene Mele Occhio a Mele Va al tiro Mele C'è la parata facile Di Gigi Mennella Che non ci sta dando la dovuta È giusta copertura Prova a contrattaccare La nuova Ischia Paradiso sull'out di destra Il cross Occhio al tiro E gol Il pareggio di Cuomo Sta dicendo qualcosa ai giocatori Eccolo il fischio dell'arbitro Cross di Matarese Pallone dentro Paradiso 2 a 1 Nuova Ischia Gli sviluppi Di un calcio d'angolo Perfettamente battuto da Matarese E ora insiste la nuova Ischia Marano Marano Il pallone per Paradiso Paradiso Che parata Di Casolare Riparte il secondo tempo Al gol del vantaggio Della squadra Della squadra ospite Matarese Pallone dentro per Mendilla Accelera Mendilla Ancora Mendilla Il pallonetto di Mendilla Il 15 ha caratteristiche un po' più offensive Per quanto riguarda la nuova Ischia Pallone dentro di Mendilla Ovvero per Mendilla Il tiro di Mendilla Recuperare la squadra isolana Mendilla Attenzione Libero al centro Marano Che però deve fermarsi Pallone dentro per Matarese Fuori gioco Fuori gioco Norma del vantaggio Marano Pallone dentro per Arcobelli Arcobelli Grande intervento di Casolare Un fallo Prova a ripartire subito la nuova Ischia Pallone sempre per Arcobelli Accelera Arcobelli Arcobelli Pallone dentro Provvidenziale l'intervento del difensore Marcobelli ancora pericoloso Non si è fatta vedere tantissimo In fase offensiva Ora Mendilla Apertura per Cuomo E libero Arcobelli Cuomo Il pallone per Arcobelli Portavuota 3 a 1 Nuova Ischia La chiude Arcobelli Della prima frazione È arrivato Prima il pareggio Siglato da Cuomo Poi Paradiso Ma intanto Occhio a Mendilla Mendilla La vuole mettere dentro lui Pallone dentro per Di Costanzo Ora il numero 17 Sosero Prova ad avanzare Occhio alla Putolana In aria Pallone dentro Mele di testa Traversa Piena E intanto Calcio di punizione Per la Putolana Il tiro Facile Finisce qui l'incontro La nuova Ischia Batte 3 a 1 La Putolana Una squadra di giovani Quella della Putolana Che ha saputo Tenere testa La nuova Ischia Per almeno un tempo Sentiamo Cosa ci dice Mister Longobardi Siamo con mister Enzo Longobardi Mister Una Putolana Che era andata in vantaggio 1 a 0 Poi diciamo che la nuova Ischia È riuscita a ribaltare tutto Sì siamo riusciti ad andare in vantaggio Con una buona azione Con Mele Poi Diciamo la nostra giovane età Ha fatto sì Abbiamo commesso qualche errore E la nuova Ischia Che sappiamo Il valore Ci ha puniti Su Diciamo su delle palle perse Sul fatto Che potevamo evitare Benissimamente Mister L'impressione è che questa Putolana È una squadra che ha Tanti giovani Anche bravi Sicuramente non sarà facile In un campionato Comunque difficile Soprattutto con squadre Come la nuova Ischia Che hanno sicuramente Più giocatori di esperienza Però davvero la sua È un'ottima squadra Sì Ci mancava anche qualche Giocatore È esperto e di qualità Per infortuni E per squalifiche Però diciamo che Non era questa la partita Che dobbiamo vincere Noi siamo una squadra Che ci dobbiamo salvare Partiamo da Da dei punti fermi Che abbiamo E cercare di fare meglio Con le squadre Della nostra La nostra portata Un commento Su questa nuova Ischia E avete giocato Anche se Con il Bacoli Se non ero Quindi dove Possono arrivare Queste squadre Chi secondo lei Se la giocherà Per la vittoria Del campionato Io credo 4-5 squadre Afronapoli Per quello che abbiamo visto Nuova Ischia Stasia E Sibilla Per quello che ho visto io Penso che queste 4 Se la giocheranno Fino alla fine Puteolana Che invece deve Soprattutto salvarsi E far crescere i giovani La prima cosa È salvarsi E la seconda È far crescere i giovani La prima cosa È salvarsi Mister Ultimissimo commento Sul portiere Secondo me Migliore in campo Classe 2000 Davvero parata eccezionale E anche molto sicuro Negli interventi Sì Classe 2000 Migliore in campo Ha fatto 5 centri Per anche qualcosa in più E Va beh Sarà Diciamo Un Un punto a suo favore Non è riuscito A portarci i punti Ma I facci i complimenti Perché alla prima uscita Si è comportato Ottimamente Nonostante la vittoria Mister Di Meglio Nel dopo partita Non è apparso Molto soddisfatto Della prestazione Dei suoi Sentiamo Mister Di Meglio Una prima mezz'ora Sicuramente in cui Non avete giocato Bene Poi siete riusciti Comunque a trovare Prima il pariggio Poi il vantaggio Nel secondo tempo Una sola squadra in campo Abbiamo fatto Troppa fatica Non sono contento Della prestazione Della squadra I primi E la prima mezz'ora Eravamo lunghi Non ci siamo Mossi la squadra Ci siamo mossi Ognuno Per i fatti sui Soprattutto in fase Difensiva Non Non riuscivamo mai Ad aggredire Con i tempi giusti In alcuni Momenti Della partita Ci siamo allungati Troppo E abbiamo fatto Grossa fatica Contro una squadra Che comunque Ha messo in campo Soprattutto nel primo tempo Delle idee Che Ci hanno creato Non poche difficoltà Mister Arcobelli In panchina Entra E praticamente Ha creato Almeno Tre Quattro Occasioni Importanti Come mai Hai deciso Di invertirlo Praticamente Con Matarese Che però La scorsa settimana È entrato E ti ha segnato Una doppietta Avevo bisogno Di un giocatore Con caratteristiche Diverse Che riuscisse A tenerli Un poco larghi Per evitare Che Si intasassero Gli spazi In In zona centrale Quindi Matarese Mi sembrava In questo momento Anche perché Lo vedevo L'ho visto anche In settimana Abbastanza in palla Però il primo tempo Purtroppo Soprattutto nel primo tempo In fase di possesso Non riuscivamo A prendere Tutta l'ampiezza Del campo Per cui Si è verificato Quello che non doveva Verificarsi Però poi Dopo il secondo tempo Penso che Non ci sia stata partita Penso che Siamo stati Anche troppo Superficiali Perché la partita Avrebbe potuto avere Sicuramente Un risultato diverso Non sei ancora soddisfatto Della prestazione Però è comunque La quinta vittoria Consecutiva Considerando anche Le partite di Compitalia Forse anche questo È un segnale Da grande squadra Per una grande squadra Che può puntare Alla vittoria Di questo campionato Ma Le insidie Purtroppo In questo campionato Sono dietro Sono dietro L'angolo Non possiamo Cullarci Sugli allori O sui facili entusiasmi Bisogna continuare A lavorare Perché ripeto Abbiamo regalato Quasi un tempo Alla puteolana E questo Non deve accadere Se vogliamo Presigerci Degli Obiettivi Importanti Si è fatto male Di massa Se sai già Qualcosa Sulle sue condizioni Purtroppo Adesso possiamo Soltanto dire Quelle che sono Delle prime impressioni Purtroppo Ha bisogno Degli esami strutturali Per capire Che cosa Sia successo Però A quanto pare Forse Si tratta Solo Di una Distorsione Non di un Incidente Molto più grave Speriamo Insomma Che sia recuperabile In tempi brevi Conclusione Mercoledì La Coppa Italia Partita Molto difficile Con la fragolese Che è il capolista In eccellenza Quanta importanza Dai a questa competizione A questo punto No ma noi Non avevamo Nessuna Vella età Voglio dire La Coppa Italia Ci serve soltanto Per dare la possibilità In questo momento A qualche giovanotto Di fare esperienza E a qualcuno Che ho impiegato Poco e niente Fino adesso Di mettere Minuti delle gambe Per cui In tanti riposeranno Perché Tra le altre cose Rigiochiamo sabato Quindi avremo Un giorno in meno Per recuperare Quindi diciamo In questo momento È più tra intralcio Che altro Questa partita Di Coppa Italia Appuntamento Tra poco Con la trasmissione sportiva Del lunedì A bordo campo Che dedicherà Ampio spazio Ai campionati Di eccellenza E promozione Con ampi approfondimenti Su Barano Le Rapporio Procida E Nuova Ischia Con servizi filmati Ed interviste In esclusiva Ospiti in studio L'ex capitano Dell'Ischia Isola Verde Ed ora calciatore Della Nuova Ischia Luigi Mennella L'allenatore del Procida Mister Franco Cibelli Il portiere del Barano Raffaele Del Rico E il dirigente Del Real Forio Vito Manna Sarà possibile Come sempre L'intervento dei telespettatori In diretta Tramite Facebook O il telefono La trasmissione va in onda Subito dopo Questo telegiornale In diretta Con le successive repliche E può essere eseguita Oltre che sul digitale Terrestre Anche in streaming Su computer Tablet Da domani Presso la chiesa di Monterone A Forio Si festeggia San Michele Arcangelo Il programma prevede Domani mercoledì Alle 10 La celebrazione Della Santa Messa Alle 18 e 15 La recita del Rosario E la celebrazione Della Messa Con un pensiero spirituale Tenuto da Fra Fedele Da Forio Giovedì poi Sarà il giorno Della festa E chiudiamo come sempre Con uno sguardo Al meteo Per la giornata Di domani L'anticiclone Assicurerà Condizioni di tempo stabile Con cielo sereno Poco nuvoloso Temperature gradevoli In aumento Venti tradebole Moderati da est Mare mosso Grazie per averci seguito Vi lascio quindi A Enrico Buone E ai suoi ospiti A Porto Campo E noi ci vediamo come sempre All'edizione delle 14 Arrivederci Grazie a tutti